Benvenuti ad una nuova puntata di U-Jets Live, un programma ideato e prodotto da Giampiero Turco. Un programma completamente dedicato alla musica dal vivo all'arte e alla cultura. Oggi avremo tanti ospiti sia qui in studio che in collegamento streaming e assisteremo addirittura ad un miniconcerto. Vi presento la mia band, Edoardo Cicchinelli al contrabbasso, Gianluca Costa alla batteria e Tobias Nicoletti al pianoforte. Il brano che suoneremo è un brano di Pierangelo Bertoli a Muso Duro in una reinterpretazione totalmente nostra ed è un augurio a tutti voi ad affrontare la vita sempre a Muso Duro. E adesso che farò non so che dire, mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano il salario. E i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a Muso Duro. Un guerriero senza padre e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è matura appunto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a Muso Duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a Muso Duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. Do il benvenuto alla prima ospite di questa puntata di U-Jet. Monica Fabrizio, ciao Monica, accompagnata da Tiana Tehera. Il brano che ci faranno ascoltare adesso è Amore e guerra, composto da Monica Fabrizio. Buon ascolto. Grazie. Credo di odiarti già un poco, è per il fatto che t'amo, credo di odiarti già un poco perché ti amo. Non t'ho voluta, non t'ho cercata, non t'ho sognata, immaginata, idealizzata, idolatrata, sei capitata. Una mattina mi sono svegliata e ho sentito l'invaso ragni, credo di amarti già un poco perché ti odio. Ho vinto la morte e vivo più forte solo per starti vicino, però non ti cerco, la vita ci porta e ci trova. Lingua furiosa, occhi di lupa, ti prenderei ad ogni luna, credo di odiarti già un poco perché divampi il mio fuoco. Io sono un lupo ma a te piacciono le focche, chissà perché ci trovi un guizzo. Credo di odiarti già un pochino perché sei tu il mio destino, ma proprio a te, ma proprio a me. Io che l'amore l'avevo buttato, differenziato, secco, umido e cartonato. Credo di odiarti già un poco, con te la rima non trovo, ti sto sul cazzo, levo l'impaccio, mi rompo un braccio, però ce la faccio. Poi sento il tuo cuore che soffre, non dormo la notte, cammino ubriaca e non tocco un bicchiere, vacanza non fa il suo mestiere. Credo di odiarti già un poco perché veleggio ma a fogo, hai credo di odiarti davvero perché ti amo sul serio. Se sassi l'amore, sassi la guerra, se questa è la guerra, tutti giù per terra, se questo è l'amore, fecondi la terra, lo sento il tuo cuore. Profuma di terra Bellissimo sound, complimenti, complimenti. Grazie. Monica, grazie di aver portato in anteprima il tuo progetto qui a UJets Live. Grazie a voi di averci ospitata. Il primo brano che ci hai fatto ascoltare è Amore e guerra. Le sonorità sono veramente particolari. Parlami di questo mondo sonoro. Diciamo che in particolare in questo brano dove c'è un testo con molte parole, insomma l'architettura del brano è quasi tutta sul testo, ho preferito usare pochi accordi. E poi c'è la mia tendenza ad usare sonorità popolari per poter dire in una maniera che è già un imprinting in noi. parlare in questo caso dell'amore, anche in una maniera forse non convenzionale, però attraversando la storia su un veicolo caldo e conosciuto e familiare come è la musica popolare. Bellissimo, infatti ti confesso che mi sono sentita molto a casa. Monica la tua voce è veramente profonda, da dove viene questa voce? Oggi in particolare da 24 ore di mascherina, lo immagino. Niente, da dove viene questa, la mia voce, è in passato, diciamo che ho un passato come cantante, vocalist e quindi ho sempre dovuto urlare, è fortissimo. Invece quando scrivo le mie cose penso che si può anche, si possono dire cose importantissime a bassa voce. Bellissimo, il brano che andiamo ad ascoltare adesso si intitola Nel Bianco. Esatto. Di cosa parla? In questo progetto tutte le mie canzoni parlano di amore, per esempio in quella che abbiamo sentito adesso, Amore e guerra. Perché Amore e guerra? Perché parla di, dice ti amo e ti odio, c'è un po' il significato che l'odio non è il contrario dell'amore. A volte sono insieme, l'odio è un sentimento, il contrario dell'amore è il non amore. Ed è bello magari per ognuno di noi accorgersi che nessuno di noi in realtà è capace di non amore. E quindi se si impara a conoscere meglio il sentimento dell'amore, tutto è così complicato e tutte le cose che si intrecciano, il sentimento dell'amore, forse diventiamo tutti più consapevoli di essere esseri che non vivrebbero con il non amore. L'essere umano è proprio, per definizione, sentimento, se siano sentimenti positivi o sentimenti negativi, però diciamo sicuramente sentimenti. È importante capire i propri sentimenti, diciamo questo, per far sì che non ci sia amore compresso e che non ci sia odio. Certo, quindi questo era amore e guerra. Nel bianco parla anche questo di amore e a tutti sarà capitato di essere lontani dalla persona amata e quando non si è indaffarati o nella confusione ci sono quei momenti di pace in cui pensi alla persona amata e io ho immaginato questo momento come se fosse un volo che si avvicina alla persona. Bellissimo, allora io ti ringrazio Monica, Monica Fabrizio, Diana Tehera che conosceremo tra poco e Nel Bianco. Ti penso come un cielo grigio pensa al vento, come una musica dormo a spento, come l'isola miraggio del naufragio. Ti invento e a stento, io tento l'ammaraggio planando sui coralli di un sorriso che ricordo e sfido il mare addosso, il vento avverso. Ti penso addosso. Ti sento come un cielo azzurro e panipento, rivolo di un fiume che ora impianto. scivola in un letto troppo bianco e a stento, avvolta dalla notte, nel silenzio di un lenzuolo. sola ti sento, ti sento, ti sento nel bianco, ti cerco nel bianco. azzurro lai 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 lai... lai 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 lai... La 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 E adesso è arrivato il momento di darvi un consiglio. Parliamo di 3G Arreda Feb Alcasa, prestigiosa azienda del settore di arredamento che ricerca consulenti d'arredo per il punto vendita di Viale Tirreno 239 a Roma. I candidati si occuperanno di consulenza al cliente e vendita di arredi. Nello specifico dovranno accogliere i clienti presentando i prodotti in esposizione e promuovendo il brand e i servizi offerti. Proporre soluzioni customizzate sul bisogno specifico del cliente, monitorare le attività relative alla consegna degli elementi di arredo e verificare l'esito del montaggio garantendo i livelli qualitativi degli standard aziendali. Per presentare la propria candidatura o per altre informazioni puoi scrivere a romapratifiscali.it oppure contattare lo 06-8104-651. 3G Arreda aspetta proprio te. Ben trovati a YouJets Live. Sono qui con Diana Tehera. Ciao Diana. Ciao, grazie di averci ospitati. Grazie a te. Abbiamo visto Diana in veste di accompagnatrice perché Diana è sia un'autrice, una cantautrice che una produttrice. Sì, allora diciamo che me la canto e me la suono ma no, in verità ho iniziato a produrre insomma anche le mie canzoni e quindi poi dopo ho inseguito anche quelle degli altri perché necessità fa virtù e quindi accadeva che spesso avevo l'urgenza di realizzare un provino, di appunto vedere, insomma di sentire un brano diciamo un po' più realizzato e magari il produttore di turno non era disponibile subito alle due notte e io invece proprio desideravo subito realizzarlo. Quindi mi sono, diciamo, resa autonoma e ho iniziato chiaramente a studiare un po' Pro Tools, tutti i programmi, ma questo ormai già vent'anni fa e adesso sono abbastanza indipendente anche se la collaborazione con i musicisti è fondamentale. Infatti, Fernando Pantini qui accanto per me è un pezzo di cuore. Grazie, Fernando. Diana, hai addirittura sette dischi all'attivo quindi sei, insomma, una penna molto fruttuosa. Sì, allora diciamo che mi piace non fermarmi mai e quindi anche se poi spesso molte canzoni le butto, le lascio lì ne produco molte di più di quelle che poi realizzo però insomma ho iniziato presto e poi chiaramente ci sono i momenti quelli più fortunati in cui si è più ispirate e poi quegli altri invece in cui io attendo fiduciosa non sono di quelle che si mette là che per forza deve creare un brano quando magari non sente proprio questa urgenza. Infatti la tua produzione di brani è andata anche nella scrittura di brani per gli altri quindi non scrivi solo per te stessa. Sì, anche lì è stato un caso ma un caso molto felice perché tra le prime collaborazioni ho avuto quella con Tiziano Ferro con cui ho scritto due brani e lui ascoltò questo mio brano la prima volta e mi disse ah posso provare a cantarlo e poi da lì abbiamo poi continuato a collaborare insieme e ricordo che all'inizio ero anche un po' offesa come se queste canzoni fossero dei figli che io dovevo in qualche modo lasciare proprio a qualcun altro e ne ero gelosa ero un po' possessiva invece ho imparato proprio tantissimo adesso proprio più che mai che è una cosa meravigliosa poter dare le ali a certe canzoni e poter lasciarle viaggiare attraverso magari anche altri interpreti. Bellissimo Diana oggi tu porti due anzi tre brani qui da noi parlaci di questi brani allora due di questi brani fanno parte del mio ultimo lavoro discografico che è Mi Fingo Distratta che è un trattato semiserio sull'amore e quindi analizzo diciamo un po' tutte le fasi dell'amore diciamo che ha un repertorio più o meno comune per tutti e quindi appunto c'è la canzone che magari parla dell'innamoramento quella della separazione quella in cui la fusionalità appunto non aiuta la separazione invece c'è quella della negazione della sintomatologia del mal d'amore in cui si capisce un po' in modo più maturo che non è che viene a mancare un arto ma che si va avanti e che è un dolore che si attraversa semplicemente come la vita ci insegna e quindi diciamo che c'è un po' di tutto sull'amore poi anche in modo ironico a volte e poi il terzo brano non so se lo farò come terzo o secondo si chiama Di Nascosto ed è invece un brano inedito che faremo per la prima volta qui per voi che si chiama eh l'ho detto si chiama Di Nascosto ed è un non vorrei dire critica però insomma una considerazione su certe dinamiche sociali magari dalle quali mi sento un po' distante benissimo allora io ti ringrazio tantissimo ascolteremo un mini concerto dei brani di Diana Tehera Diana Tehera Fernando Pantini grazie grazie a tutti mi hai ferito eppure l'ho capito che non desideravi altro che conoscere il potere che su di me mi hai cambiato ma non ho imparato a dirti chiaramente quello che ancora oggi sento non so perché ma tu guardi dritto negli occhi dici quello che pensi sottra i movimenti superfi i miei gesti guardi e non ti nascondi parli e non mi confondi come appare diverso questo amore adesso che non ho paura di chiamarlo con il suo nome rivelami qual è stato se tu l'hai mai capito il modo che non mi ha permesso di seguire il desiderio che abiti ma tu stavi senza paura dentro le mie reazioni conosci l'origine che non hanno scopi ma voglia di spazio crudele questo mese di aprile ma se tu ti avvicini è di nuovo sublime la mia parte migliore apri tutte le porte poi succede qualcosa che sparaglia la morte che non mi ha Grazie a tutti. 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 Non posso... Grazie a tutti. 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 primo lavoro che mi vede come cantautrice ed è una raccolta di più o meno dieci anni di brani scritti e che vengono presentati all'ascoltatore in ordine di scrittura proprio perché in quanto dei fogli che raccontano raccontano una storia ed è la mia storia fondamentalmente quindi di un viaggio di una rinascita di una crescita che ho voluto mettere in musica bellissimo un viaggio autobiografico quindi è una cosa molto preziosa molto intima dato che è il tuo nuovo anzi il tuo primo lavoro come abbiamo detto da cantautrice come hai proceduto con gli arrangiamenti come ti sei approcciata a questo nuovo mondo per te allora guarda il mio modo di lavoro è abbastanza metodico perché nel momento in cui scrivo io mi occupo totalmente del testo e di quello che è poi la melodia del cantato e dopodiché vengo affiancata da Edoardo Musumeci che è il mio chitarrista storico insieme condividiamo ormai la musica da più di tredici anni e quindi io arrivo a casa sua con diciamo l'ultimo nato l'ultimo brano nato e insieme iniziamo a vestirlo dopodiché continua il lavoro negli studi dell'etichetta della TRP Music insieme a Riccardo Samperi quindi possiamo dire che è veramente un gran lavoro di squadra bellissimo possiamo anche dire prima tu hai usato una un'espressione che mi è piaciuta molto è il nuovo nato quindi possiamo dire che che ha un sacco di zii questo nuovo nato dato che ascolteremo proprio in anteprima fogli che raccontano questa uscita discografica volevo chiederti di raccontarmi un pochettino dove possiamo trovare questa tua musica allora potete ascoltare ovviamente il brano nella nel canale youtube e rivedere il video della TRP Music però poi è ascoltabile anche acquistabile in questo momento su tutti i digital store perché purtroppo ci avrebbe fatto molto piacere portare questo progetto in giro per l'Italia ma in questo momento non è possibile perché come hai detto bene tu è un progetto che veramente ha tanti tanti zii tanti padrini a me piace chiamarli così che non sono soltanto Edoardo e Riccardo ma anche tutti i meravigliosi musicisti che hanno suonato in questo disco e che comunque a prescindere dal loro lavoro come professionisti poi sono degli amici nella vita di tutti i giorni bellissimo allora ascoltiamo fogli che raccontano buon ascolto grazie abbandono qui tutte le mie armi proverò ad arrendermi non conserverò compulsivamente quello che non riesco a mandar via in silenzio se ne avrò bisogno Anche quando le voci mi confonderanno Senza spiegare perché Basteranno gli occhi Che nascondono le immagini perse nei viaggi Fatti solo per scappare Ti regalerò Collezioni di Fogli che Mi raccontano Fogli che Ti racconterò Buonasera da Erika Minghi Ben trovati a YouJazz Live Stiamo per collegarci con un artista davvero eccezionale Pensate un po', lui è sassofonista Ma nella sua vita, nella sua infanzia ha iniziato giovanissimo a suonare anche il violino E poi appassionato anche di musica in generale ha deciso non solo di produrre musica ma anche di produrre proprio gli strumenti Stiamo parlando di Alessandro Bertozzi a cui do la buonasera ovviamente e il benvenuto a YouJazz Live Ciao Erika, ciao a tutti Ciao Alessandro Ovviamente ti ho presentato un po' all'Argheline Dicci qualcosa in più di te, com'è nata questa duplice passione? Guarda io ho cominciato a suonare nella banda a sette anni, chiarino E poi ho sempre lavorato anche il legno, mi piaceva molto lavorare il legno e la musica Quindi ho messo insieme le cose e ho fatto l'iutaio Quindi costruivo i violini così L'ho fatto per un po' di tempo Poi dopo un po' di anni non puoi fare tutto Allora sono rimasto come a prima attività solo il musicista Però mi piaceva molto Ti accontenti diciamo così adesso di fare solo il musicista E tutto non ci riesce Sei uscito da pochissimo, da maggio 2020 con un nuovo disco che si chiama Trade Union E prende ispirazione un po' da un continente che è quello dell'Africa Ci vuoi raccontare com'è nato questo disco? Sì, allora i suoni... no no, premessa A me è sempre piaciuto molto fare commissioni di generi L'ultima produzione era un orchestra d'acchi Insieme a un trio funky Un po' di mix di diverse sonorità mi è sempre piaciuto farle In questo disco, questo mix l'ho fatto con dei suoni molto africani A me sono sempre piaciuti i suoni africani, le percussioni tribali Ma anche i cori, i canti tipici mi hanno sempre dato un'emozione Quindi ho provato a metterle insieme alla sonorità più tipica mia Che è quella jazz funky Ecco, il risultato a me piace Di solito non mi piacciono mai i dischi che faccio Questo non mi dispiace Tra poco ascolteremo qui a You Jets Live Un pezzo del tuo album che si chiama Summer Way Quindi sicuramente avremo il piacere di ascoltare anche questi ritmi un po' africani Ci vuoi raccontare anche un pochino com'è nata la tua band? Dopo aver buttato giù il progetto Ho sentito un cantante che proprio aveva la voce giusta Che cercavo Senegalese Papieri Samb si chiama L'ho coinvolto subito Poi si è unito un altro percussionista africano Ernesto Nanche da Silva Molto bravo anche lui E poi ho unito una ritmica con i quali suoniamo insieme da anni Quindi Max Furian alla batteria Alex Carreri al basso E Andrea Polione alle tastiere Quindi abbiamo messo insieme un po' queste cose Elettrico col tradizionale con percussioni tipiche africane E con i canti, i cori africani C'è sicuramente anche un messaggio particolare Che ha deciso di mandare con questo disco E non solo, probabilmente anche con tutta la tua musica in generale E forse è anche un po' frutto del momento che stiamo vivendo Sì, sicuramente Questo disco, l'idea di partenza è stata proprio quella In questo momento di separazione Tra culture, tra stati Bisogna metterci insieme Perché se no non si conclude niente Secondo me La gente deve stare unita Non c'è più empatia Quindi con questo Nel mio piccolo Ho provato a unire Un po' di culture diverse Perché con la musica Si fa molto più in fretta Che con le parole La musica quando suoni Non pensi Uno se è africano Se è tedesco O giapponese Non cambia niente O ti trasmette qualcosa O non te lo trasmette O non te lo trasmette Assolutamente vero Perché possiamo dirlo La musica non conosce confini In questo caso andiamo anche in Africa E non conosce sicuramente discriminazioni Grazie davvero Alessandro Bertozzi Adesso noi ascoltiamo E vediamo insieme Qui su NSL Samawai Samawai Adunamul solo Nanjidembo Samawai Adunamul solo Bulkojapo Samawai Adunamul solo Nanjidembo Nanjidem Nanjidembo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.